La povertà distrugge la vita di tanti bambini, rovina le famiglie e ruba la speranza. Povertà vuol dire che tante bambine come Laksmi non possono andare a scuola. Sua madre è morta quando aveva tre anni ed ora è lei ad occuparsi della famiglia. Ha solo dieci anni. Povertà vuol dire che molte ragazze come Lila sono costrette a sposarsi giovanissime perché le loro famiglie non riescono a mantenerle. Povertà vuol dire che tanti bambini devono spezzarsi la schiena per supportare i propri cari. Vuoi aiutarci a combattere la povertà e a cambiare la vita di un bambino? Con il sostegno a distanza puoi regalare ad una bambina come Laksmi istruzione, acqua pulita, cibo e cure mediche. Puoi darle speranza. Fai qualcosa di veramente straordinario. Chiama ora l'800 920802 e sostieni un bambino a distanza con meno di un euro al giorno. Solo 25 euro al mese. Potrai scambiare con lui lettere e fotografie e seguire i suoi progressi a scuola. Potrai anche incontrarlo e vedere con i tuoi occhi l'importanza del tuo supporto. Un gesto che cambierà la sua vita e anche la tua. Chiama ora Save the Children all'800 920802 e regala un futuro ad una bambina come Laksmi. Grazie.